Dopo una lunga discesa, eccoci nel primo cerchio dell'inferno. Siamo immersi nelle rocce, ma c'è un sentiero che ci indica la strada, seguiamolo. C'è un vento, è una strana luce che rimbomba nell'aria infernale, ma non ci fa paura. Non è come quel bagliore intenso che ha spaventato Dante fino a fargli perdere i sensi. È una luce fioca, chiara, che ci permette di andare avanti senza sgomento. Ecco, da lontano vediamo delle luci muoversi. Non capiamo cosa sono. Hanno diversa intensità e grandezza. Ora, intravediamo un bagliore più grande. Una luce che si spande nell'aria triste di questo paesaggio sotterraneo. Ci fermiamo per ammirarla. È un castello. Un castello qui sotto. Ci avviciniamo ancora e capiamo che quelle luci che in lontananza ci sembravano fiocche, in realtà sono delle anime. Anime di ogni età. Ci sono infanti, pargoli appena nati, giovani, vegliardi. La loro espressione, ora che li troviamo di fronte a noi, non è di dolore. Potremmo dire che non è né lieta né triste. E quel rumore di vento che sentiamo, o meglio, che abbiamo sentito, ora lo capiamo. Sono i loro sospiri. Ma ecco che Dante e Virgilio ci hanno superato e si sono fermati a parlare con quattro spiriti. Ci affrettiamo, perché non vogliamo perdere neanche una loro parola. Grazie. 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 Grazie.